Buongiorno a tutti. Vedremo in questa settima pillola due termini complessi che sono molto importanti in tutte le azioni di cubo. Il primo termine è dead cube. Una situazione è di dead cube quando chi riceve il cubo non ha la possibilità di ricubare o perché è l'ultimo tiro del game oppure perché vincerebbe il match senza bisogno di ricubare. Ad esempio quando gli mancano solo due punti per vincere il match. Il secondo termine è live cube. Abbiamo una situazione di live cube quando chi riceve il cubo può proporre un cubo perfettamente efficiente cioè un cubo che per l'avversario è indifferente accettare o passare. Occorre dire che normalmente ci si trova in una situazione intermedia tra le due descritte. Arrivederci al prossimo episodio.